potremmo iniziare anche dalla cosa che appena detto fuori onda il caso di farlo però è importante anche definire come e quanto è particolare vedere un concerto di guccini dell'84 al cinema grazie a nexo digital appunto che porta fra la via emilia e l'west dal 5 all'8 di dicembre al cinema si tratta di un concerto piuttosto memorabile che si è tenuto il 21 giugno del 1984 su spinta e questo cucina dice più di una volta anzi dice proprio io non lo volevo fare come al solito il cucina questo atteggiamento diciamo un po a meglio così si può mettiamola così ma anche diretto nei confronti dell'esistenza comunque siamo nel 1984 il manager di francesco guccini l'anzo fantini e nicola silisi che era all'epoca l'assessore alla cultura del comune di bologna vogliono portare francesco guccini piuttosto riluttante a tenere questo concerto in piazza maggiore a bologna e l'occasione sono i vent'anni di una canzone di un brano celeberrimo vent'anni anche di carriera di guccini in realtà però insomma di questo brano di cui lui autore che è la canzone del bambino nel vento che è anche famosa come auschwitz e che è stata scritta da lui ma incisa dall'equipe 84 quindi che succede guccini convinto dalla frase se non lo fai tu lo fa qualcun altro decide di tenere questo concerto e quello che succede è che piazza grande a bologna esplode di persone e lui stesso si sconvolge e in questo cine concerto praticamente oltre ad una breve introduzione di francesco guccini stesso vediamo proprio tutto l'evento guccini oggi guccini oggi certo e vediamo tutto l'evento con il guccini dell'ottantaquattro e devo dire il tempo è impietoso è così ma con tutti noi anche con le immagini con sì è un concerto molto definito molto rai tre sì nel senso che ha proprio quella percezione perché dovreste andare a vedere questo questo cine concerto io me lo sono chiesta perché in realtà quello la sensazione che ho avuto io guardandolo è un po la stessa che ho avuto guardando il film su berlinguer mi rendo conto che potrebbe sembrare cioè da una parte grande fascino perché in effetti è un concerto molto bello ci dà la possibilità di vedere nella loro nei loro anni d'oro quasi direi almeno poco dopo forse gli anni d'oro delle grandi personalità della musica italiana guccini stesso l'equip 84 ma lucio da lucio dalla soprattutto ma anche bertoli cioè ci sono delle bellissime voci e ma soprattutto delle bellissime teste di autori e autrici che vediamo in questo concerto ma dall'altra mi sono fatta un po di domande anche su quello che è un po il panorama della musica italiana con una concentrazione specifica sul cantaudorato mi sono solo fatta delle domande perché poi io sono veramente l'ultima delle persone che ha un atteggiamento snob e lo sapete bene noi di letture metropolitane anzi siamo molto aperti al nuovo tendenzialmente però ecco io ho un po pensato a quegli anni a quello che c'era stato quegli anni a quello che si vede su quel palco e alle parole che si sentono ai testi che si sentono su quel palco e anche devo dire alla totale mancanza di lustrini ma proprio cioè sembrava una serata è vero che stiamo parlando di guccine lucio dalla ok però sembrava veramente tipo una serata intorno al fuoco detto in maniera anzi forse sembrava più più un primo maggio quando era bello più un concerto sì più una veramente una donata politica cioè era più una cosa simile allora innanzitutto bisogna contestualizzare appunto a livello storico era pochi anni dopo la bomba alla stazione di bologna la piazza centrale della di una delle città più importanti dal punto di vista politico ma anche 84 bologna era al centro del mondo pazienza se non sbaglio era per lo meno al centro di italia sicuramente c'è un buon punto in europa sì in altri luoghi personaggi come guccini e dalla sarebbero stati elton john e forse sì ma guccini lo so però ma non per la per forse perché non è proprio la persona più istrionica che conosca però appunto basta semplicemente poggiarsi sul sulla sul wikipedia di guccini e guccini è sotto contratto dalla dalla emi risulta l'idea dell'artista italiano da più anni sotto contratto con la emi e il secondo nel mondo dopo paul mccartney quindi tu vuoi mettere lo sbatti di cambiare case scopriamo cercando degli appigli internazionali la la cosa che fa sicuramente più effetto e che il concerto è appunto in una riempitissima satolla piazza centrale piazza grande di bologna ma il palco è piccolissimo la dimensione estremamente familiare cioè sembra proprio tutto mi guardi male non capisco non ti piaccia questa definizione sì perché la sensazione è proprio di amici che suonano perché vogliono suonare ora ti sembrerà una cosa romantica da dire figuriamoci se la direi io se fosse una cosa romantica ma a me sembra che la sensazione fosse proprio quella sì probabilmente anche a livello tecnologico la l'impianto microfoni con lo scotch ma lì lasciamo fare poi si sono evolute se come me non siete proprio fan della prima ora della folk italiano soprattutto se guccini non è proprio il vostro amico del cuore sicuramente noterete moltissime cose che stridono con quello che c'è adesso cioè molta più sostanza lì a certo a vantaggio di appunto una una forma più spartana delle anche il recente non c'è un recente documentario sui beatles a negli stati uniti sul disney plus ne parleremo magari in seguito appunto io devo ancora vederlo e sono molto curioso però lì si vede anche con uno scarto temporale ma anche con dei budget più o meno paragonabili anche con lo scatto appunto temporale in mezzo i mezzi erano quelli per fare dei grandissimi concerti adesso appunto una un palco del genere ma anche dell'amplificazione due microfoni con lo scotch ce l'ha soltanto samuel dei subsonica ma neanche perché appunto l'altro inutilmente per subsonica c'è un motivo però vabbè il ci sono tantissime cose temporali tanti scarti temporali che appunto il confronto viene direttamente la scaletta è il è più o meno la stessa è la stessa non della serata perché non viene non è stata trasmessa non è stata neanche registrata integralmente piazza grande di lucio d'alla inizia troncata per dire ma sul palco c'è un bel un bel interscambio un bel anni di rivieni c'è sia paolo conte che lucio d'alla che bertoli ma anche debora cooperman che è una una chitarrista una chitarrista folk americana conosciuta da guccini perché era perché studiava a bologna lei ha avuto una borsa di studio e quindi in quegli anni era a bologna e poi da lì è diventata cioè si è fermata in pianta stabile in italia e ha collaborato con tantissimi autori autoresi italiani ecco su questo punto ti vengo assolutamente incontro per il stiamo insieme facciamo una serata insieme capito sarai il vino posso fare dopo forse lo farò un collegamento con la rappresentante di lista ecco per esempio durante la visione casalinga ecco pure questo ha portato alla mia fruizione leggermente sfalzata però è impossibile non parlare non commentare sopra la dire ma guarda quelli lì guarda tutti accalcati ma no scendete dalle colonne che vi fate male c'è guccini che a un certo punto dice mi hanno detto di dirvi di non spingere oppure la bambina gaia la bambina che si aspetta tipo supermercati ci sono delle cose che appunto dette da che ne so il concertone una certa ingenuità ma bella secondo me un'ingenuità bella molto più concentrata sulla musica che sul resto dal 5 all'8 dicembre lo trovate al cinema quindi se potete vedete al cinema sì 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 il tutto è chiuso in 90 minuti quindi se essere curiosi e curiosi di vedere come si facevano o come anche era guccini quando aveva 40 anni di meno come erano tutti se non sono morti nel frattempo alcuni non ci sono alcuni purtroppo non ci sono più però è interessante quindi pure questo tra l'altro nota di merito per next original che il prossimo allora il film precedente a questo era un film documentario sul knee cave prima di knee cave la prima band di knee cave il prossimo evento di next digital sono i daf punk con interstella 555 questo si intitola fra la mia emilia e il west francesco cuccini